2017, 2020, 2022, 2023. Sono i quattro momenti topici di una vicenda che continua a scuotere anche a distanza di sei anni. Come e perché è morto nella mattina del 16 agosto 2017 il giovane chef Raffaele Casale a seguito di un incidente con la moto sulla quale viaggiava da solo in via Martiri di Palermo a Trani. Una domanda a cui ha provato in questi anni a darsi sicuramente una risposta alla famiglia Casale con la battaglia portata avanti da papà Felice ma in qualche modo anche la giustizia tranese che tra tanti passaggi a vuoto al momento tiene però ancora viva l'inchiesta. Per me che mi sono dovuto subarcare quello che doveva fare la giustizia l'ho dovuto fare io. Diciamo che è una notizia buona però mi aspettavo di più ma mi basta anche questo perché io ho l'opportunità di far provare tutto quello che io ho dovuto portare alla magistratura. Sono tutti i tre fascini, quattro fascini, 1663 pagine che io dal 2000 quando ho fatto riapertere passo le notte e me le sono imparate a memoria. Adesso quello che mi fa male adesso scoprire che nel 2017 come ti ho fatto vedere con questi striscioni ci manca il fascicolo del 2017 perché io ritengo che nel 2017 non è stato fatto nulla e qualcuno adesso voglio che mi spieghi perché io sono ancora qui a battermi la testa contro il muro per capire mio figlio come è morto. Una settimana fa infatti è arrivata la nuova decisione del GIP Lucia Altamura di proroga di indagine di ulteriori sei mesi. Al momento nel registro degli indagati per omicidio colposo risulta iscritta solo una donna tranese che sarebbe stata al volante di una vettura al momento dell'incidente in moto di Raffaele Casale. Ma omissioni, silenzi, indagini parziali sono al centro di numerosi esposti da parte di Papa Felice che con la sua tenacia ha fatto riaprire il caso nel 2020 dopo forse una frettolosa archiviazione. Da allora i fascicoli sono diventati ben quattro nel complesso, anno dopo anno e adesso contengono 1600 pagine di documenti. Ma per Papa Felice bisogna ancora continuare a indagare. A distanza di circa 200 metri dal luogo dell'incidente c'era per esempio una telecamera le cui immagini però non sono mai state acquisite nell'immediatezza del sinistro. C'è anche da valutare con molta attenzione le condizioni dell'asfalto, in particolare della pulizia di quella strada in quel punto, oltre alla presenza di una pista ciclabile già precedentemente sotto la lente di ingrandimento della magistratura per la sua pericolosità. E poi c'è anche da valutare la corretta catena dei soccorsi, insomma tanti interrogativi per cui Papa Felice continuerà a chiedere giustizia per suo figlio Raffaele, giunto a Trani con un sogno e che si è interrotto però davvero troppo presto.